Sai qual è? Quella di aver visto questo premio Far Play, la continuazione della vittoria della Coppa Disciplina della mia squadra della Palmese lo scorso anno. Sono ovviamente contento per questo, anche se oggi non sono più allenatore della Palmese, questo premio lo condivido con loro, con il Presidente, con il Direttore e con tutti gli altri.